La tredicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. E chiamiamo adesso sul palco Studio Gulli, per rappresentare da tre anni un'eccellenza nel campo della consulenza fiscale, nota per la sua professionalità, affidabilità e preparazione. Eccoli che arrivano, Studio Gulli, un'altra delle nostre eccellenze, eccoli qui, complimenti e ci rivediamo perché ci siamo già visti, ovviamente. Buonasera e bentornati. Buonasera, complimenti ancora. Ah, la spilletta anche. Ne do anche la spilletta. E beh, la spilletta la do a lei. Fatta. Diamo il nostro benvenuto alla dottoressa Tina Gulli, commercialista a capo dello studio che porta il suo nome con sede a Torino. La sua realtà professionale si conferma tra le eccellenze italiane nell'ambito della consulenza fiscale. Quali sono i vostri punti di forza? Innanzitutto sono molto onorata di essere qui questa sera e ricevere per la quarta volta consecutiva un premio, quindi questo mi onora e mi fa molto e mi commuove. I miei punti di forza sono sempre stati quelli di essere vicino al contribuente. Praticamente quando vengono da me vengono per avere un appoggio non solo fiscale o fiscale o tributario, ma un appoggio proprio sociale, sociale di dare una speranza, perché i tempi sono molto difficili, dare una speranza nel mandare avanti le loro attività. Quindi io sono una specie di mentore, voglio dire. È un mentore che parla di svolte e mai di fallimenti, perché vengono da me chi è fallito in un'azienda, chi non è andata bene nell'altra. Sono una specie di speranza, per questo sono andata avanti negli anni, perché sono riuscita con tanti giovani e meno giovani a fare delle ottime start-up sia in Italia che all'estero, dando speranza. Ricollegandoci a quanto appena detto, le vorrei chiedere un commento sul futuro dei lavoratori italiani. Secondo lei quale sarà l'impatto della riforma IRPEF sui lavoratori dipendenti e a partita IVA? Bene, per i suoi lavoratori dipendenti ha già avuto un piccolo impatto nella manovra antecedente, che hanno fatto il taglio del cuneo fiscale, hanno già avuto un piccolo aumento. Ci sarà un impatto, sì, però non duraturo nel tempo. Si parla solo del 2024, perché non ci sono i fondi necessari. È ovvio che sarà solo per il 2024, questo parlo dei dipendenti, perché non si riesce ad avere una platea e delle risorse che possano coprire la platea intera di persone. Quindi o poi faranno in modo di avere meno detrazioni, quindi abbiamo poi lo stesso beneficio, oppure si dovranno trovare queste risorse in un'altra maniera. Questa è una delle pecche di questa manovra. Va bene per un anno, che sarà il 2024, poi non si saprà. Questo per i lavoratori dipendenti. Invece per le partite IVA avremo un disparmio nel 2024 di circa 600 per le tre aliquote che hanno fatto, ma anche qui per il futuro bisogna vedere come verrà strutturato il PNR e tante cose. Siamo ancora un po' in balia degli eventi. Non sappiamo esattamente come si devolveranno questi eventi nel futuro. Adesso continuiamo a parlare di futuro. Quali sono gli obiettivi che lo studio Gulli si prefigge per i prossimi anni? Ci sono cinque sfide per noi. Innanzitutto l'innovazione, il digitale, la sostenibilità, il fatto di... il mondo che è globalizzato e quindi cercare di andare sempre sui mercati esteri, in quanto poi i mercati nazionali sono ormai troppo usurati. Quindi c'è bisogno di allargarsi al mondo intero e sempre accettare tutte le sfide che questo dà. Certo non è facile all'inizio, però noi abbiamo fatto parecchie start-up, abbiamo aiutato parecchi giovani ad aprire nei paesi esteri e si sono trovati benissimo. Certo i primi tempi sono complicati perché c'è una nuova cultura, però quando si è giovani e quando si ha voglia di fare si riesce senz'altro a incamminarsi in una nuova vita, in una nuova avventura. Noi ottimizziamo tutto il processo di crescita all'estero, l'alloggio, quanto riguarda il lavoro, dove devono trovare gli uffici, cioè non vengono abbandonati a loro stessi, diciamo queste sono le chiavi, ma insieme a loro facciamo tutto un percorso e lasciamo la persona, quando si sente ormai sicura e quando ormai l'azienda è avviata. Come diceva Alessandro Massone poi bisogna raccomandarsi a Dio perché bisogna sempre continuare nonostante che ci sono delle avversità, preparare loro una nuova sfida, cioè come Dio ti prepara qualcosa di nuovo in futuro, ti lascia le cose vecchie perché quelle nuove sono migliori e sono più grandi e quindi aiutare queste persone a capire che non stanno di lasciare il passato e ricominciare col futuro che sarà senz'altro più grande di quello che hanno lasciato.